La nostra azienda è una cooperativa che si incarica di promuovere la tradizione del pastore. Noi alleviamo le nostre pecore e dell'allevamento abbiamo di una volta la linea di produzione dei nostri formaggi, tutti al latte crudo. L'iniziativa è cominciata precisamente vedendo le bondade della nostra zona, dove la nostra Maiella, Chiarano e le nostre montagne hanno le proprietà delle erbe fantastiche e possiamo creare dei formaggi secondo la sua stagione. Eppure per seguire la tradizione del pastore promuoviamo la transumanza, che si fa in circa 5-6 transumanze all'anno. Durano 3 giorni questa transumanza e si fa il percorso di intorno a più di 50 km. Si dorme in qualche luogo e si condivide tutta la tradizione insieme ai pastori, le pecore, anche con i cani. E facciamo questa bella tradizione dell'adozione della pecora, come vediamo qua, per mantenere in movimento i nostri prodotti e così si può mantenere la nostra cultura, tradizione del nostro Abruzzo. Con i nostri formaggi, che voi vedete qui, abbiamo il brigantaccio, dove si crea una tradizione dei nostri briganti, dove conservavano i nostri formaggi in una maniera molto particolare con il fieno. Noi ovviamente lo facciamo adesso con la crusca. Abbiamo i formaggi muffato, pecorini classici, pecorini erborinati, pecorini con le erbe, peperoncino. Abbiamo anche il caprino, perché anche abbiamo delle capre. E abbiamo caprino classico muffato, cacciotta e lingotto. Tutti i formaggi della nostra produzione. Tutti i formaggi della nostra produzione.